Ciao, buongiorno a tutti, sono Giulio Milanese e sono il direttore dell'Urologia di Ascoli Piceno. Siamo qui oggi ad operare con il dottor Antonini Gabriele, il quale per l'interiore volta è venuto a farci vedere la sua tecnica di posizionamento protesi peniena tricomponente per via sovrapubica, una tecnica che dalla prima volta che ho avuto modo di vedere eseguita dalle sue mani mi ha un po' dato l'idea della rivoluzione nell'ambito protesico, così come la laparoscopia è stata una rivoluzione per la chirurgia addominale, quindi definisco Gabriele il laparoscopista nella protesi peniena e la sua tecnica veloce con una abilità di posizionamento consente al paziente di avere un risultato funzionale eccellente. La protesi una volta era un corpo estraneo, oggi con questa tecnica e con la sua arte diventa una parte del corpo del paziente senza più nessun fastidio collegato al pezzo di plastica chiamiamolo così. Quindi devo dire che la rivoluzione che c'è stata con questa tecnica consente oggi al paziente di avere veramente un'arma in più per combattere il deficit elettivo in particolare nei pazienti dopo interventi di chirurgia oncologica. Quindi siamo sempre contenti di collaborare con il dottor Antonini proprio perché ci offre questo risultato funzionale per trattare il paziente operato anche di prostatettinia radicale. Buona giornata a tutti.